Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! E poi andremo a vedere come costruire una nave, quali sono i comandi, insomma le varie cose. Una delle cose più importanti all'inizio, o soprattutto se volete fare non una stazione ma più che altro una miniera, è quella di equipaggiare nella vostra nave un modulo che sia in grado di riconoscere gli asteroidi che sono riclamabili, quindi claimabili. E un modulo potrebbe essere questo qua con l'Object Detector, vedete che vi segnala i claimable asteroids. Quando voi lo montate sulla nave e arrivate in un sistema, premete il tasto N e qua vedete la panoramica. E premendo questo tastino qua in alto a destra, Object Detection, praticamente vi fa vedere con il giallo quelli che sono gli asteroidi claimabili. Il verde invece sono altri oggetti che possono essere ad esempio o box da aprire piuttosto che altre cose. O addirittura forse ce ne sono... no ce n'è uno solo di asteroidi qua. Comunque l'ho puntato, ci andiamo e vi faccio vedere. È una cosa rapidissima, perché gli asteroidi hanno una forma che non è proprio regolarissima e vi fa pensare più a un asteroide mixato ad altri asteroidi. Infatti sembrano un insieme, come se fossero tanti asteroidi incollati insieme. Dovete andarci molto vicino, a meno di 500 metri. A quel punto dovrebbe uscire un'interazione. Vabbè, io premo F, mi interagisce. E vedete che c'è il claim. L'asteroide diventa nostro, della nostra fazione. Insomma, intanto è arrivato anche il buono IBU. Allora, premendo di nuovo F, la scelta è doppia. Potete fondare una miniera e vi fa scegliere, costano parecchio. Quindi una miniera d'alluminio, di carbone, di copper, di ghiaccio. Lid mi sfugge. Piombo. Nobel Metal Mine. Ce ne sono tre, non so il motivo. Cioè, probabilmente Gold Platinum, Silver Platinum o Silver Gold. Che è quella che abbiamo fatto noi. Sì, sono le varie combo dei Nobel Metal. Sì. L'Oil, che è il Rolo Oil. Quindi petrolio, insomma, una roba del genere. Oil Mine, sono le ore generiche. Il Silicio e lo Zinco. Potete fare una di queste e la storia diventa costruibile. Mentre, se noi facciamo, e questa è la cosa più importante all'inizio gioco, se facciamo Cell Asteroid, possiamo venderla a una delle fazioni nella zona. Più avete reputazione con loro, più ve la pagheranno. Ma all'inizio ve la pagheranno magari 200-300 mila, ma avete delle botte di reputazione di più 10 mila. Quindi farete facilmente reputazione. Io adesso la vendo e dal nulla mi faccio 600 mila. Ma adesso concludiamo la cosa andando. Andando, prima di tutto, in un settore sicuro. Così almeno io lascerò qui questa nave e vi porterò a vedere la nostra stazione. Quella che abbiamo costruito. La nostra miniera di silver e gold. Adesso ho fatto il salto, mi porto in una zona sicura perché poi se mi arriva un messaggio... A parte che ho il capitano, la mia nave è al capitano, come avevamo parlato la volta scorsa. Io ho un capitano hunter, quindi tecnicamente dovrebbe potersi difendere. Comunque io mi metto vicino. Intanto vi aggiorno anche dove siamo arrivati. Sono arrivato in questa zona qui. Grazie a questo wormhole qui, che da qua mi ha portato qua. Mi ha fatto saltare tutta questa parte di spazio. Ma in realtà ce ne sarebbero due di wormhole. E qua si trovano i materiali, quelli del tier successivo, quello che avevamo visto. Quello blu, il trinium. Quindi siamo più o meno a metà nella corsa verso il centro della galassia. Abbiamo cambiato anche la nave. La nave è sempre più forte, più resistente, più armata. E ha anche gli scudi. Allora, ora, andiamo dove c'è... Seguendo qui, ho chiamato A-Ho, perché una nave è una stazione mineraria. Vediamo dove me la indica. Qua, vedete che avendola affondata, la zona è diventata violetto. Quindi praticamente io posso andare qui, clicco su Switch to A-Ho e abbandono la mia nave lì, in idle, ed entro direttamente nella stazione. Ora siamo all'interno. Questa è la stazione. Posso allontanare la visuale, la vedete qua. La vedete, è stata costruita molto basilare, ha gli attacchi per le navi. Quindi ora, cosa devo premere? Vedete che mi dà gain 3 silver, 3 gold, perché è in produzione continua questa nave. Premo il tasto I. E vedete che all'interno c'è un capitano, c'è del personale che lavora, ha le torrette difensive, i meccanici e i minatori non ci sono. C'è del personale generico. Questa è la stazione, con tutti i vari armamenti. I sistemi, esattamente come una nave. Lo stock all'interno. L'energia, insomma. E adesso io non mi ricordo come si va a costruirla. Con la B. Con la B. Ok. Ecco, la cosa che hanno in più le stazioni e le miniere è la parte che si chiama assembly, che è una parte che velocizza la produzione. Ok. E sulle navi è praticamente inutile. Dove la trovo? Il trading overview? La seconda riga circa in mezzo. Aspetta, che lo faccio vedere. Seconda riga. Ma dove? Nella B, nei blocchi di costruzione. Ok. Sotto al crew quarter. Allora, crew quarter, assembly, sì. Ah, praticamente questo, più lo mettete, più vi velocizza la produzione. Infatti vedo che c'è qualcosa qua sotto, ok? Visto. Ora, andiamo a vedere il trading overview. Qua, no. No. Volevo vedere le produzioni di questa stazione. Eccola qui. No, vabbè, ma l'ho visto da qua. Qua vedete che produciamo silver e gold, il prezzo di mercato. Possiamo deciderlo con questa barra qui. Possiamo decidere se acquistare da altri o vendere ad altri. E quindi se mettere attivamente richieste di acquisto e di vendita. E qua abbiamo, vabbè, quello che la stazione è in grado di comprare dagli altri che passano. E qua possiamo aggiornare, spendendo 2 milioni e 7, aggiornare le linee di produzione. Naturalmente ne abbiamo 3, quindi produciamo velocemente tutti questi. Vedete, per 3. Quindi produce. Vado qui, l'aumento a 4. Quindi produrremo il doppio di entrambi i materiali. Abbiamo guadagnato un milione e mezzo perché ogni tanto passa qualche nave. Ma nulla vi vieta, vedete quelle 3 barre sotto la stazione che salgono velocemente. Ecco. Nulla vi vieta però di andare a prendere le vostre navi che avete costruito, magari una nave cargo, dargli il compito di venire qui, prendere oro e silver, argento, e andare a venderlo in giro. Oppure vengono le navi direttamente a voi. Questa è una stazione totalmente indipendente, nel senso che produce e vende fine. Se poi deciderete di fare altre fabbriche, quelle magari potrebbero avere bisogno di oro o argento, quindi darete il compito a una vostra nave a fare il trasporto. Ovviamente quando costruite delle stazioni di produzione dovete metterle in una zona strategica o produrrete voi le risorse di cui ha bisogno o dovete andare a comprarle, un po' come succede anche su X4 Foundations. Ok, io direi che abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire. Solo una cosa, riguardo sempre gli asteroidi, una volta che l'asteroide è già rivendicato, lo trasformi in miniera, non è più vendibile. Quindi adesso noi avremo questa stazione per sempre, possiamo decostruire tutto, ma ce la conta comunque che la stazione non è più vendibile. Sì, quindi è un buon metodo all'inizio, un po' come si fa su X4, scavando le pietrine blu, rosse, rosa, per fare i primi soldi all'inizio. Quindi potete andare con quello scanner, oppure nulla vi vieta di non usare lo scanner e di guardare la panoramica con N dei vari asteroidi, cercando di trovarne uno dalla forma irregolare, insomma. Però questa è la base della costruzione della prima stazione, della prima fabbrica, insomma, miniera. Ora invece, a cura di Ibu, tratteremo le basi su come costruire una nave. Quindi ci spostiamo direttamente da lui, cambierà un pochino l'audio, perché io sono a vederlo da lui, e vediamo. Eccoci qua sulla mia partita, questa è la mia partita in single player, non quella che sto condividendo con Indy, perché mi viene più comodo per spiegarvi un po' la costruzione, e quindi cominciamo dalla base base. Per poter costruire una nave, bisogna essere innanzitutto in vista a drone, quindi fuori da altre navi costruite, e da qua si può, col tasto B, cominciare a costruire una nave. Ogni nave successiva alla prima che viene costruita, richiede una tassa, diciamo, con materiali via via crescendo. C'è una tabellina sulla wiki, se la trovate, comunque sono sempre 500 di metalli via via crescendo. C'è la spunta per poter creare una nave dell'alleanza, che qua in single player non ho, mentre quando le facciamo in crop viene creata, si crea un nome e si comincia dal primo blocco base. Primo blocco base del materiale di cui abbiamo parlato con la tassa, ma nulla ci vieta di cambiarlo. Il primo materiale è un blocchettino, in questo caso è uno scafono normalissimo. Prima cosa che si può fare, andare a cambiare i blocchi. Innanzitutto ci sono vari tipi di blocchi, non tutti i blocchi sono disponibili per tutti i materiali. Ad esempio, tutti i sistemi dell'energia in ferro non sono abbiabili, in titanio sì. Prendiamo un generatore di titanio e con Alt si può sostituire un blocco già esistente. Poi, con F1, volendo, ci sono tutte la lista dei comandi, quindi non starò qua a spiegarli. Il fatto sta che si possono ridimensionare i blocchi con WASD, la Q invece ridimensiona tutto. Shift invece ci pareggia il blocco con un altro blocco simile. E noi andremo a costruire la nostra nave come più ci piace. Adesso metto giù dei generatori. Una cosa che si può fare, adesso io ho quattro blocchi dei generatori, posso fare merge, prendo la selezione, li seleziono tutti e quattro e praticamente me li fonde in un blocco unico. Quando si fa questo, noi avevamo delle simmetrie che possiamo impostare col tasto mirrors o con shift x, y e z, banali assi di simmetrie, ma vedete che adesso ho spostato perché lui me la tiene sul blocco originale. Con questo tasto lui mi ricentra la simmetria sul blocco che ho selezionato, non per forza del blocco centrale, se per caso sto facendo un'ala della mia nave, posso fare la simmetria su quello per fargli il sopra e sotto uguale. I blocchi di costruzione possono essere inseriti nella barra rapida qua sotto e una volta che sono inseriti, con la rotellina del mouse, usa gli stessi blocchi ma di materiale vivia crescente. Quando abbiamo creato il nostro inizio di nave, ogni volta che aggiungiamo un blocco, ci viene data l'informazione su cosa fa questo blocco. Ad esempio io vado ad aggiungere uno stock di energia e vedete in alto a destra i numerini, i valori che si aggiornano, mi darà un po' più di scafo, 42 in più di energia accumulabile, eccetera, eccetera. Ogni volta che aggiungiamo pezzi, andiamo ad incrementare appunto il volume massimo della nave, questo volume massimo è limitato dal tira attuale che abbiamo di knowledge, di conoscenza della costruzione, che sono i famosi step che si fanno quando si aumenta, si passa al tira dopo di minerale. Raggiungendo determinati step andiamo a sbloccare anche i sottosistemi. Adesso noi non si vede niente, abbiamo un solo sottosistema libero, abbiamo un solo sottosistema libero che è l'1, aumentando il processo in power che è dato semplicemente dal volume della nave, andiamo a sbloccare il 2, il 3, il 4 e via dicendo, fino ad un limite che può essere ampliato sbloccando appunto questi tira di conoscenza nuovi. continuiamo a fare la nostra nave con tutti i blocchi che servono, crew, motori, robe varie. Ad un certo punto non ci piace un pezzo, vogliamo cancellarlo, quindi io adesso ho messo questo blocco della crew, qua ci metto uno scafo sopra, ho messo malissimo, non mi piace, voglio cancellarlo tutto. Se faccio canch, non me lo fa fare, perché ci attiva la safe mode. La safe mode fa cancellare un blocco alla volta e impedisce di cancellare il core della nave, il blocco base. Mentre se togliamo questa safe mode, possiamo benissimo andare a cancellare un pezzo e mi cancella tutti quelli collegati. Possiamo anche fare una selezione e cancellare, adesso ho solo un blocco, e cancellare vari blocchi messi assieme. Adesso ne ho messi 4, con la selezione ho messo la selezione a 2 e me ne cancella 2. Questa è la base, non siamo ancora sull'estetica. Per quanto riguarda l'estetica, i vari blocchi di corazza, scafo, crew, hanno questo più e ci fa vedere che hanno varie forme. Il pezzo, le statistiche del pezzo verranno ridimensionate, perché ovviamente non è un pezzo pieno, ma è un pezzo a metà, quindi ci darà metà della crew, ad esempio, e può essere posizionato, ruotato, come più ci piace, per dare il senso alla nostra nave. Cosa molto importante a livello estetico che ho imparato molto tardi, è che premendo XYZ, ci va a specchio dei pezzi sui vari assi, perché abbiamo solo la forma base, ma per fare alcune parti, alcune zone meno cubettose, poi è comodo specchiare il pezzo invece che fare mille rotazioni. Una volta che noi adesso abbiamo finito la nostra nave, si può andare su i design salvati e salvarlo. Una volta che è salvato, può essere anche caricato sul workshop col destro. Si fa upload to workshop, gli si dà un titolo, si può impostare tra pubblico, solo per amici o privato, e verrà caricato e gli altri potranno scaricarla. Se noi scarichiamo una nave già fatta, adesso ne prendo una a caso, prendiamo una nave già fatta, facciamo apply design e lui ce la ricrea esattamente com'è, ma non ci piace, dobbiamo fare delle modifiche, dobbiamo cambiare il materiale delle parti perché vogliamo metterci le torrette di Trinium, quindi questo in Naunite non va più bene. Sempre con Alt possiamo sostituire, ma se volessimo sostituire il motore, c'è il pulsante View e ci fa evidenziare e vedere o solo i materiali di un certo metallo, o addirittura solo i materiali di una certa classe. Quindi qua si vedono solo i motori, qua si vedono solo i generatori, adesso sono in Titanium, posso sostituirli con Alt in Trinium e rendono un pochino di più andando su di terra. Detto questo, tutto il resto è fantasia vostra. Una nave va fatta anche tenendo conto di quali sistemi poi abbiamo in banca da applicarci, perché se ho un blocco che mi genera il doppio di energia, posso fare i generatori più piccoli e concentrarmi sullo scafo. Posso fare più scudi, meno scudi, tutto quello è un po' personalizzabile, anche dalle navi già scaricate dal workshop. Ultima cosa, la nave che abbiamo fatto non ci piace, quindi adesso rimuovo le viste. La safe mode è già tolta, seleziono tutto con il rettangolo e la nave la cancelliamo. E ti dice questo, cancellerà la tua nave, sei sicuro? Sì. Vi segnerà come morti, perché vi venite buttati fuori, no, mi hai ritorno sull'altra nave. Se siete in un settore amico, probabilmente vi ributta su una vostra nave. Se siete in un settore vuoto, vi fa esplodere dopo i 10 secondi e rientrate. Cosa importante, quando volete costruire una nave nuova, va fatto in un settore che abbia lo shipyard, perché i blocchi complessi, che non siano scafo e thruster, vanno costruiti per forza dove c'è uno shipyard. Quindi prima di mettersi il vostro pomeriggio a costruire, vi cercate un bel settore tranquillo e vi mettete lì. Tranquillo relativamente perché una volta che si va in B, in costruzione, vedete che il gioco è in pausa. È un'impostazione, potete lasciare che il gioco vada avanti o che si metta in pausa dal setting del gioco. Questo direi che è un po' tutto, la base ovviamente, poi ci si sbizzarisce su forme, colori, funzioni delle navi. Ognuno quello sceglie come farsene. La base della costruzione direi che è questa. Si possono anche rinominare le navi, dare una classe, dare un'icona se vogliamo vederla sulla mappa. E questo è quanto. Sì, poi, giusto per fare un appunto anche rispetto ai commenti che sono arrivati, ci sono tanti nomi di blocchi. La conoscenza dell'inglese richiesta è proprio basilare, se avete già fatto dei survival è base. Sì, penso che sia, si capisca, cioè armatura, motore, generatore. Ci sono questa ventina di blocchi, non è così proibitiva la cosa. Ecco, poi, l'altra considerazione è, ovviamente, non è per tutti questa cosa. Cioè, potete scaricare navi già pronte dal workshop. Cioè, non piace a tutti costruire. Sicuramente, chi ama la costruzione così a blocchi, mixato insieme al discorso della costruzione, insieme ai sistemi che magari avete trovato, vi fate una nave ad hoc per i blocchi, come dicevi prima, faccio il generatore più piccolo perché ho il modulo che compensa, quindi guadagno spazio per metterci magari più armature e più generatori di scudi, qui vi dà spazio a una possibilità di combinazione infinita, che da questo punto di vista lo rende un prodotto decisamente superiore a un X4, che ha, senz'altro, altri pregi, soprattutto dal punto di vista dell'amministrazione, della gestione economica e delle altre navi. Però, anche qui in Avorian è una cosa che dovremmo ancora approfondire. Però, a livello di navi a schermo, il fatto di poterle seguire in ogni processo che fanno, sicuramente è più corposo X4 rispetto ad Avorian. Però, non scherza nemmeno lui. Quindi, direi che abbiamo detto tutto per questo terzo video su Avorian. Sì, direi proprio di sì. Ovviamente è a livello molto di infarinatura, ma non si può neanche tediare la gente facendo vedere ogni singolo blocco. Esatto. Quindi, io ringrazio Ibu per il suo intervento di spiegazione e vi saluto. Ciao a tutti, anche da parte mia, e alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao!